Si rinnova l'intesa tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e la Presidenza dell'Associazione Soroptimist International Italia. Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e Soroptimist International Club Napoli hanno inaugurato presso la tenenza dei Carabinieri di Ercolano una nuova stanza tutta per sé, dedicata all'accoglienza e all'ascolto delle vittime di violenza di genere. Un ambiente riservato all'ascolto e alla denuncia, allestito con arredi più accoglienti e caldi distinti da quelli degli uffici generalmente utilizzati per la raccolta delle denunce. In linea con gli obiettivi del protocollo, il Soroptimist Club Napoli ha donato agli arredi e materiali informatici per la realizzazione della stanza, offrendo mobili, illuminazione e arredi che richiamano quelli di un ambiente domestico più che quelli di un ufficio di polizia. Questo per favorire l'empatia tra le vittime e gli operatori della sicurezza, secondo un modello di dialogo già efficacemente assimilato e sperimentato nelle pratiche operative dell'arma. Progetti di questo spessore si affiancano alle importanti iniziative adottate dall'Arma dei Carabinieri con l'istituzione a livello nazionale sin dal 2009 di una sezione Atti persecutori nell'ambito del raggruppamento investigazioni scientifiche, con la realizzazione di una rete nazionale periferica di personale specializzato nella violenza di genere e con la diffusione di un prontuario tecnico-operativo che fornisce al personale un riferimento qualificato per la gestione dei casi. Di grande utilità si è rivelato nel territorio della provincia napoletana il Mobile Angel, uno smartwatch che garantisce alle vittime un contatto immediato con le centrali operative dell'arma, allertando i carabinieri in caso di pericolo con un semplice clic. La stanza di Ercolano, la terza della provincia di Napoli, dopo quelle di Capodimonte e Caivano, va ad inserirsi in un contesto territoriale che abbraccia l'intera area vesuviana e costiera, spesso problematica per l'incidenza della criminalità comune e organizzata. Un ulteriore presidio per contrastare con la prossimità il fenomeno della violenza di genere, in un territorio sul quale l'arma dei carabinieri investe quotidianamente impegno e risorse umane sui piani preventivi e repressivi.